pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa il nostro essere comunità il nostro presente il nostro futuro partono da qui un viaggio nella storia della nostra tradizione un viaggio dove si incrociano ricordi e memorie vi aspettiamo per la presentazione del nostro libro gavietti trademait ogni anno il 3 maggio il 25 aprile alle ore 18 e 30 al caffè letterario ad oruri non mancate